PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Benvenuto alla puntata 29 di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati e dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, sound designer del podcast, il quale anche oggi con la sua pillola digitale alimenterà il tuo essere avvocato tecnologico. Come sempre, prima di iniziare, ti ricordo come puoi contribuire alla messa in onda del podcast collegandoti alla pagina paypal.me slash fposati e fare una piccola donazione oppure finanziando il podcast in crowdfunding tramite la pagina patreon.com slash fposati. Lascia anche una piccola recensione su iTunes per far conoscere il podcast oppure condividerlo tra i tuoi contatti social. Scegli tu il modo più comodo per far crescere questo progetto. Stiamo per calarci nel tema della puntata di oggi. Oggi è il 7 agosto, la feriale è iniziata, i termini sono sospesi fino al primo settembre. Avrei chiuso lo studio e sarei partito per le meritate vacanze. Sono stati mesi molto intensi questi. Dobbiamo ricaricare le batterie per chiudere l'anno. Già ti vedo, avvocato tecnologico, in riva al mare, a guardare l'orizzonte con lo sciabordio delle onde a bagnarti i piedi. Ma sempre con un occhio al cellulare a controllare l'ultima mail o pack della cancelleria di qualche tribunale a migliaia di chilometri distanti da te. Quando a un certo momento un suono a te familiare ti rompe nel silenzio. E tu subito a controllare. Tema della puntata di oggi è proprio l'instant messaging e del perché oggi è opportuno che tu, avvocato tecnologico, devi incominciare a integrare la messaggistica istantanea nel tuo piano di comunicazione con i clienti. Se ancora sarai indeciso, ti svelo nella seconda parte del podcast 5 motivi validi a favore dell'instant messaging. Iniziamo! In generale gli avvocati sono sempre stati resti ad aprirsi al nuovo e a volte sembrano così lontano dai cambiamenti culturali della società come nel caso della messaggistica istantanea la quale sta rivoluzionando la comunicazione sociale oggi. Lo vediamo tutti i giorni. Fluide di messaggi in tasso in i nostri smartphone. Anzi è paranoia sulle doppie spunte del messaggio che è stato consegnato ma che il nostro destinatore non ha ancora letto. I gruppi di WhatsApp con 10.000 notifiche al secondo. Avvisi continui. Bombardamento a tappeto su ogni dispositivo che ti costringono a silenziare per una settimana o un anno i gruppi a cui spesso ti hanno iscritto a forza senza il tuo volere. Non solo a livello personale però l'instant messaging sta cambiando anche il mondo del lavoro sempre più flessibile e dinamico in cui il mezzo di comunicazione più usato era senza dubbio fino a ieri la mele che solo da qualche anno nell'avvocatura aveva soppiantato il tanto caro fax. Oggi le grandi aziende stanno integrando sempre più le applicazioni di messaggistica istantanea nei contesti lavorativi. Una recente ricerca pubblicata su TechCrunch ha rilevato che gli over 30 sarebbero legati alla mail per comunicare e informarsi ma i millennials per il loro rapporto con le tecnologie prediligono WhatsApp, Telegram, Snapchat per comunicare, Facebook e Twitter per informarsi. The millennials, se ti ricordi, ne ho già parlato nella puntata 25 del podcast. Ascoltala per capire quali saranno i futuri clienti degli avvocati tecnologici. Anche la pubblica amministrazione, attenzione si sta aprendo alla messaggistica istantanea nella logica della multicanalità come strumento di supporto per comunicare e dialogare con i cittadini e viene anche usata come mezzo di comunicazione interna permettendo ai dipendenti di dialogare collaborare a distanza scambiare link, files in modo rapido ed economico consentendo una riduzione dei costi per la pubblica amministrazione e i numeri parlano chiaro Oggi sono circa 4 miliardi le persone che usano app di instant messaging e cresceranno ancora nel 2017 tra meno di un anno arriveranno a toccare i 5 miliardi su una popolazione mondiale di 7 miliardi e tra questi ci sono anche i tuoi clienti Lo scambio di dati sempre più multimediali e pesanti ha rivoluzionato anche il mondo della telefonia gli utenti ormai hanno lasciato gli sms di solo testo tradizionali e ha spinto le telco ad aumentare i gigabyte offerti nei vari piani telefonici per internet Se ancora resti ad adottare l'instant messaging con i tuoi clienti allora ti svelerò 5 buoni motivi per integrarlo nella tua professione Ma prima ascoltiamo la pillola digitale di Marco Pennacchini nella sua novità del mondo digitale Google si dà agli alimentari e lancia la consegna in giornata di prodotti freschi a domicilio facendo concorrenza ad Amazon e a Fresh Direct il gigante di Mountain View ha annunciato che il servizio è partito in via sperimentale a San Francisco e Los Angeles e a differenza della concorrenza che consegna prodotti alimentari conservati nei propri magazzini Google recapiterà direttamente dai supermercati partner tra cui due giganti dei supermercati come Whole Foods e Costco Grazie Marco di queste news che ci condividi Riprendiamo il tema della puntata Oggi ci stiamo introducendo nel mondo dell'instant messaging e sull'importanza del perché oggi tu, avvocato tecnologico non devi trascurare questo canale di comunicazione Stai ascoltando PCT Facile il primo podcast per avvocati tecnologici Scopriamo insieme a Stefano Gaggioli in Broadvision.com quali sono i 5 vantaggi dell'instant messaging L'instant messaging porta alla flessibilità della risposta Ti sembrerà strano ma l'instant messaging è una comunicazione asincrona Vi spiego meglio con questi esempi Quante volte ti sarà capitato che sei nel mezzo dell'udienza o evento e arriva la telefonata del cliente Se sei gentile rispondi scusi sono in udienza vi richiami più tardi Se sei telematico mandi in automatico un SMS preimpostato di risposta di essere ricontattato più tardi Nell'area del PC gli strumenti di comunicazione erano le mail, le voip, le chat La velocità di comunicazione non è radiettata dall'urgenza di ottenere una risposta ma dalla disponibilità del nostro interlocutore a stare di fronte a un PC Nell'area del mobile il nostro interlocutore è sempre aggiungibile dalla notifica del nostro messaggio anche nel mezzo di una riunione importante Segnalando opportunamente l'urgenza della richiesta possiamo ottenere l'informazione che ci interessa in tempi rapidi Se invece siamo noi a ricevere la richiesta possiamo valutare se è necessario rispondere tempestivamente magari con poche informazioni importanti rimandando a più tardi di fornire maggiori dettagli In questo modo possiamo essere tutti più efficienti e ottenere le informazioni che vogliamo soprattutto evitando di perdere tempo con chiamati inutili L'instant messaging è collaborazione creativa Nell'era del PC la comunicazione era prettamente testuale con qualche allegato multimediale da caricare nel nostro computer Oggi gli smartphone ci offrono una versatilità nella comunicazione multimediale unica con foto, audio, video, trasmessi istantaneamente in mobilità ottenendo così una comunicazione più diretta, efficace e creativa L'instant messaging connette il team di lavoro Nell'era del mobile l'accesso delle informazioni diventa immediato e la velocità della comunicazione viaggia sull'onda dell'instant messaging La comunicazione asincrona della messaggistica istantanea riduce le chiamate e il tempo richiesto Inoltre con l'accesso diretto da mobile ai nostri storage in cloud di documenti e alle applicazioni generali Tu avvocato tecnologico sempre più in mobilità Puoi essere più autonomo e tempestivo nel tuo lavoro e nel rispondere a eventuali richieste da parte dei colleghi o dei clienti Un motivo in più per attivare il sistema di messaggistica interna nel tuo studio Favorisce la collaborazione sociale? Fornisci o cedi a informazioni dai tuoi colleghi in modo più efficace e diretto Nell'era del mobile opportunamente configurando le notifiche sul tuo smartphone in modo da non essere sommerso sei sempre aggiornato sulle eventuali richieste che vengono dai colleghi e nei momenti di pausa magari puoi aiutare un collega con una informazione importante e veloce o viceversa ottenere un'informazione essenziale per chiudere un contratto mentre sei in riunione con il cliente Lista messaging e puro coinvolgimento Trasforma la comunicazione dei tuoi clienti in reale coinvolgimento Nell'era del PC la comunicazione era fermentata e dispersa tra mail per richiesta di informazioni dovevi accedere tramite un content center lunga attesa e perdita di tempo Nell'era del mobile molte aziende si stanno attrezzando per fornire ai loro clienti una user experience più efficace e coinvolgente tramite la comunicazione bidirezionale In questo modo i clienti accedono più rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno chiedendo chiaramente attraverso il canale dedicato o un'interfaccia facile da usare direttamente dalla mobile app del fornitore di servizio oppure tramite un collegamento con la piattaforma di instant messaging preferita Ricapitolando semplicità, immediatezza, condivisibilità, creatività e partecipazione attiva Ecco le caratteristiche dell'instant messaging rimanere ancora chiuso nella tua sfera personale di fronte ai clienti sempre più digitale porterà solo alla tua esclusione professionale Viviamo la trasformazione digitale che ci offre infinite possibilità per migliorare l'efficienza della tua professione e la qualità della vita Viviamo il futuro digitale come mi piace a me chiudere e concludere ogni podcast che ci porta a essere più flessibili favorendo la nostra creatività e sollevandoci da tutte le attività di routine Termino qui questa puntata Ti annuncio che la prossima puntata sarà dedicata proprio a due dei principali piattaforme di instant messaging a confronto Whatsapp e Telegram Ti spiegherò perché tu, avvocato tecnologico, dovrai preferire Telegram Ciao Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram Contatta l'autore Francesco Posati per idee, suggerimenti, richieste su about.me slash fposati o scrivi a me chiocciola francescoposati.it Sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati